Shalom, shalom, shalom. Saluto tutta la casa di Israele, coloro che stanno cercando con umiltà e sincerità la verità. Shalom. Shalom e prima di iniziare vorrei lodare, adorare e dare tutto il dovuto al Padre, Yehawah, che voi da ignoranza chiamate Dio, nel nome di suo figlio, Yehawah Shai, che voi da ignoranza chiamate Gesù. La lezione di oggi sarà basata su un po' di storia. Allora, volevo farvi vedere delle cose riguardo il nostro calendario. E qui, questa è la Wikipedia, ok? Come sapete, il calendario che soffriamo è il calendario gregoriano, ok? E andiamo un attimo a leggere e a capire da dove è venuto questo calendario e il motivo perché abbiamo questo calendario di oggi. Eccoci qua. Il calendario gregoriano è il calendario solare ufficiale di quasi tutti i paesi del mondo. Prende il nome dal Papa Gregorio XIII, che lo introdusse il 4 ottobre 1582, con la Bola Papal Intergravissimas promulgata a Villa Mondragone, ok? E questa è la lettera che ha fatto il Papa XIII per ufficiare questo calendario qua. Allora, andiamo avanti a leggere. E' una modifica del calendario giuliano precedentemente in vigore, in accordo con la proposta del medico calabrese Luigi Lilio, che prese parte della commissione preseduta da Cristoforo Clavio, gesuita professore del Collegio Romano, assieme al matematico e astronomo siciliano Giuseppe Scala e al matematico perugino Ignazio Danti. Allora, è importante che capiamo il motivo perché hanno fatto questo. Vi tiro fuori un paio di punti da ricordarvi, che precedentemente c'era il calendario giuliano, ok? Che andiamo anche a vedere prima, quindi clicco sopra il calendario giuliano e leggiamo da qui. Il calendario giuliano è un calendario solare, cioè basato sul ciclo delle stagioni. Fu elaborato dall'astronomo egizio sostiene di Alessandria e promulgato da Giulio Cesare, ok? Da qui prende il nome nella sua qualità di pontificio massimo nell'anno 46 avanti Cristo. Scusatemi, ecco, il punto che vi volevo puntare su questi calendari, e non fatevi ingannare, sono calendari solare, ok? Sono dedicati a diversi dei, soprattutto quello del sole. Ora torniamo dietro e vediamo il calendario gregoriano. E la prima frase che leggerete qui è che è il calendario solare, ok? Sempre solare. Ora andiamo a vedere dalle scritture un attimo, perché voi ricordatevi, in precedenza avevo fatto un video riguardo il libro di Daniele. Consiglierei, vi consiglio di andare a vedere questo video per capirne di più di che tempo siamo, ok? Ora vi leggo una scrittura dal libro di Daniele, ok? Capitolo 7, e leggo i 25, ok? Che è là che ho il punto da farvi capire. Allora, se leggete dall'inizio, questa è una visione attraverso il sogno che ha avuto Daniele, che è la stessa cosa di quello che ha avuto nel capitolo 2. Ok, è il re Nobucodonso, ok? E questo sogno in realtà parlava della cronologia dei tempi della Terra. I re che avranno governato la Terra fino alla fine, ok? E qui, come sapete, anzi vi faccio vedere, qui ho l'immagine. Ecco, questo è il sogno che ha avuto, ok? Questo è il primo sogno che ha avuto il re Nobucodonso, e questo è il secondo. Vi consiglio di andare a vedere il primo video che ho fatto per capirne di più. E noi siamo qui oggi. Comunque, questo regno che siamo è la stessa di questa, solo che è tutto modificato, ok? È tutto modificato qui. Quindi, questo è il quarto regno, ok? Ed erano i Romani, ok? Che governavano dal 1168 prima di Cristo a 476 avanti Cristo. E vi leggo qui, dal versetto 25, libro di Daniele. È lì, or, anzi, leggo da 24. È 10, anzi, da 23, scusatemi. Anzi, dice, Egli mi disse, la quarta bestia, perciò è il quarto regno, ok? La quarta bestia è un quarto regno sulla terra, anzi è scritto qui, ok? Diverso da tutti i regni, ok? Perché è diverso, perché l'antica romana regnava a tutta forza, aveva l'esercito più potente, c'era qualcosa di particolare. E là era unita come potenza militare, ok? E ce ne sono altre particolarità che lo rende diversa, ok? Dai regni di prima, ok? Inizio di nuovo. Ed Egli mi disse, la quarta bestia è un quarto regno sulla terra, diverso da tutti i regni, che divorerà tutta la terra, ok? Ha divorato tutta la terra, la capesterà e la frantumerà. Anzi, uno della diversità è che è lo stesso regno che è andato fino al quinto regno che siamo a giorno d'oggi, ok? E vede, vedete qui, che divorerà tutta la terra, ok? La capesterà e la frantumerà, ok? Ma questi non sono i punti. Le dieci corne, anzi questa bestia aveva dieci corna sulla testa E queste dieci corne, anzi leggo da qui, dice Le dieci corna sono dieci re che sorgeranno da questo regno, ok? Chi sono questi dieci re che sorgeranno da questo regno? Sono i paesi nati. Se li andate a contare, sono dieci paesi principali, includendo anche America, ok? Sono i paesi nati e sono loro che stanno governando il mondo che siamo a giorno d'oggi, che siamo al quinto regno, come dipinto qui. Il quinto regno è la stessa, perché il quarto è ferro, ok? Il quinto è ferro miscolato con l'agila, ok? Perciò c'è un po' di ferro dentro questa agila, ma non sono tanto uniti, come vedete oggi. I paesi europei sono insieme, ma non sono tanto uniti, ok? E dice, e dopo quelli, le dieci corne sono dieci re che sorgeranno da questo regno, vi ho spiegato. E dopo quelli, sorgerà un altro re che sarà diverso dal precedente, ok? E abbatterà tre re, ok? Questo sta parlando dei Stati Uniti, America, ok? America ha battuto, se andate a vedere, nella prima e seconda tezza guerra mondiale, ok? Questi sono i tre re che sta parlando, ok? E li parlerà contro l'Altissimo. Infatti, il blasfemo della Babilonia, America, come aveva detto il fratello mio nel video che abbiamo fatto in passato, America e l'Italia sono gli unici paesi che bestemmiano contro Dio, ok? Perché c'è qualcosa di simile tra i due. L'antica romana è qui in Italia, il nuovo impero romano è in America. Infatti, hanno tutte le cose in comunità, come strutture, ok? E li parlerà contro l'Altissimo, affliggerà i Santi dell'Altissimo. Chi sono i Santi dell'Altissimo? Sarà il prossimo video che farò, ok? Che sono i figli di Israele, i Santi dell'Altissimo. E si proporrà di mutare i giorni festivi e la legge. Ecco il punto che volevamo qui. E si proporrà di mutare i giorni festivi e la legge, ok? Perciò, torniamo dietro, qui dove eravamo. Come hanno cambiato il calendario, ok? E' tutto un inganno per farvi adorare le statue dei dèi lori, ok? Torniamo e finiamo questo versetto, ok? Ok, dove sono? Scusatemi. Ecco qua. Egli parlerà contro l'Altissimo, affliggerà i Santi dell'Altissimo e si proporrà di mutare i giorni festivi e la legge. I Santi saranno dati nelle sue mani per un tempo. Dei tempi e la metà di un tempo, ok? Poi si terrà il giudizio. Mi fermo qui. I Santi, infatti, sono nelle sue mani. I Santi sono israeliti. Di solito sono i più poveri nella società, ok? Ecco perché hanno concentrato i più poveri verso il sud d'Italia. Questo non per dire che non ci sono anche israeliti al nord. Perché gli israeliti, leggendo le scritture, saranno dappertutto, nei quattro angoli della terra, ok? Avete visto che qui ci dice, scusatemi, e li parlerà, e si proporrà di mutare i giorni festivi e la legge, ok? Perciò hanno cambiato il calendario, tutto per farci adorare i loro dei. Adesso vi aprirò gli occhi a qualcosa molto importante. Qui vediamo i mesi dell'anno, ok? Inizio da qui. Dal settembre, ok? Vi dico, la parola settembre viene dal numero 7, ok? Perché riescono a cambiare tante cose, ma non tutto riescono a cambiare, ok? Sono riusciti con altri mesi, ok? Ma qui il padre ci apre sempre gli occhi a coloro che hanno voglia di capire queste cose con sincerità, con la volontà giusta. Il mese settembre proviene dal numero 7, ok? Il mese ottobre viene dal numero 8, ok? Ecco perché avete i primi numeri di fronte. E il mese novembre viene dal numero 9, ok? Vedete, se tolgo ombre, vedete 9, ok? E il numero, il mese dicembre viene dal numero 10, ok? Non fatevi ingannare. Dicembre non è l'ultimo mese dell'anno. L'anno inizia con primavera, ok? Inizia di solito a febbraio, verso la fine o in metà febbraio. E questo è stabilito nelle scritture, vedete, ok? Perciò loro hanno cambiato tutto, hanno girato tutto per farvi adorare diversi dei, ok? Ora non andrò nemmeno anche a vedere i giorni, ok? Anzi, scriviamo giorni, giorni, ok? Scusatemi, non so perché non me la dà qui. Non ce l'ho, andiamo a cercare qua, giorni. Non me la dà, mi sa che devo per forza andare su. Allora, giorni. Giorni della settimana. Wiki. Eccoci qui. La settimana. Se andate a leggere bene qui, i giorni della settimana sono, ok? Fatti per adorare questi dei qua. Il Saturno, avete visto? Giove, Marte, Sole, Venere, Mercurio, Luna. Questi sono dei nomi, ok? Dei dei antichi, ok? Sono dei nomi dei dei, avete visto? Perciò ci fanno, cioè, hanno, hanno modificato tutto a modo loro. E poi andiamo a vedere, vi faccio vedere velocemente. Il Papa, avete visto? Il cappello che indossa, è tutto che viene da questa antichità qua. Prima di farvelo vedere, andiamo a leggere un versetto che si trova nel libro di Deutronomio, ok? Quattro, ok? Versetto diciannove. Ok, che legge? E anche affinché, alzando, ok, anzi, leggo la, la figura di una bestia che striscia sul suolo, la figura di un pesce, anzi, scusatemi. Ci tocca leggere da, anzi, qui il padre metteva in guarda i figli di Israele, che non dovevano, dovevano osservare i comandamenti, ok? E non adorare altri dèi, ok? Il punto è nel versetto diciannove, ma leggo da qui. E li metteva già in guardia, ok? Nei ultimi giorni che siamo d'oggi, delle cose all'avvenire, il motivo perché non dovevano. Siccome non vedeste nessuna figura il giorno che il Signore vi parlò in ore dal fuoco, guardate bene a voi stessi, affinché non vi corrompiate e non vi facciate qualche scultura, ok? Io e mio fratello, in un video ancora precedente, abbiamo parlato di come sono piene di sculture, di statue, le chiese, ok? La rappresentazione di qualche idolo, la figura di un uomo o di una donna, ok? La figura di un uomo o di una donna, la Madonna, che adorano la Madonna, adorano la falsa figura di Gesù, ok? Che non si chiama Gesù nemmeno. Gesù è la bestia, diciamo, è quello, è Satana proprio, è Satana proprio. Se andate a vedere nei video che ho fatto, perché è tutta un'altra persona da quello che dice le scritture, ok? Affinché non vi corrompiate e non vi facciate qualche scultura, la rappresentazione di qualche idolo, la figura di un uomo o di una donna, la figura di uno degli animali della terra, la figura di un uccello che vola nei cieli, la figura di una bestia che striscia sul suolo, la figura di un pesce che vive nell'acqua sotto la terra, ok? E qui parla di pesce, ora qui vi fa vedere qualcosa, il cappello, ok? Che porta il papa, ok? E' della figura del pesce, è proprio pesce che viene dall'antichità, i dei dei persiani, ok? Si chiama Dagon, ok? L'avete visto? Dagon e Mitra, ok? Se scrivete Dagon e Mitra, papale, su cosa vi fa vedere? Proprio, vedete? Questa è l'antichità. Adoravano dei demoni, avete capito? E l'hanno modernizzato qui, ok? Ma è la stessa cosa. C'è il motivo perché il padre diceva queste cose qua, ok? Di non fare la figura di un pesce. Avete visto? Che vive nell'acqua e sotto la terra. E affinché, alzando gli occhi al cielo e vedendo il sole, la luna, le stelle sotto l'esercito celeste, tu non ti senti attratto a prostrati davanti a quelle cose e a offrire loro un culto. Perché quelle sono le cose che il Signore tuo Dio ha lasciato per tutti i popoli che sono sotto i cieli, ok? Sta parlando di tutti gli altri popoli. Perciò noi che siamo figli di Israele abbiamo i comandamenti da osservare. Tutti gli altri che non fanno parte della casa di Israele possono fare tutto quello che vogliono. Infatti siamo sotto il loro comando e ci stanno facendo proprio vivere questa vita qua. Di tutti i menzoni, ok? Allora, vi dico di nuovo, qui, ok, i giorni della settimana, per esempio, il padre ha ordinato che il settimo giorno dovevamo riposarci, ok? Ma noi invece andiamo in chiesa il primo giorno della settimana. Chi dovete ascoltare? La chiesa falsa, i papà e tutti questi diavoli qua o quello che dice il padre. Vedete ancora per l'ennesima volta che la strada che porta alla perdizione è davvero larga e quella che porta alla vita è stretta, ok? Anzi, in inglese, la domenica si dice Sunday, ok? Il giorno del sole, immaginate. Perciò vanno in chiesa ad adorare i dei del sole, ok? Riguardo questa cosa che vi ho fatto vedere, il Dagon, ok? Avete visto? Anzi, dove? Scusatemi. Ok, Dagon, Dagon e la mitra. Questo è un dè antico e è anche registrato nelle scritture. Andiamo a leggere il libro di Primo Samuele. Primo Samuele, capitolo 5. Leggiamo dal primo versetto. I filistei, ok? I filistei, che sono dei figli di Ham, ok? Che sono adoratori di statue. Andate a leggere la storia bene. Il libro di Samuele vi parlerà di chi sono i filistei. Quindi, presero l'arco di Dio Yahweh e la trasportarono da Ebeneza all'Astod. Presero l'arco di Dio Yahweh e la portarono nella casa di Dagon. Avete visto? Nella casa di Dagon. E la misero accanto a Dagon. E vedete cosa succede? Il giorno dopo, gli asdo dei asatisti di buon'ora trovarono Dagon caduto con la faccia a terra davanti all'arco del Signore. Questo Dagon è i Dei che stiamo, coloro che ci governano, ok? Sono loro. Che alla fine non è la chiesa che comanda e che gestisce il mondo. È solo una frazione che usano per portare le menzogne, ok? Avete visto? Questo è un prete Dagon. Ok, se andiamo a vedere questa foto. No, non è questo che volevo. Mi sa di averlo perso. Comunque ho fatto anche... Ho fatto anche... Ho fatto anche in passato un video. Avete visto? Dagon, ok? Avete visto che... Quello che vi dicevo, ok? Dei dei pesci, ok? Fanno riti umani, riti, ok? Ed è quello, ecco perché mancano tante persone. Nel Vaticano oggi. Ammazzano i bambini e fanno riti dietro le quinte, ok? Sono questa gente qua che andiamo... Avete visto? È la stessa cosa. Hanno solamente cambiato forma, ok? Se non aprite bene gli occhi, vedete che la strada è larga che porta alla perdizione. Cari fratello, fratelli e sorelle, che nell'ebraico antico si dice, Akiam per i fratelli e Akwat per le sorelle, ok? Vi mette in guardia. Aprite bene gli occhi. Pregate al Padre. Pregate al Padre e vi farà sapere delle cose, ok? Spero che questo video vi ha edificato. Il prossimo video, Yahawa Bahashem, Yahawa Shai, volendo, farò un video sui santi, chi sono i santi. Yahawa è il nome del Padre. Bahashem è in ebraico antico che vuol dire nel nome, ok? Nel nome di Yahawa Shai. Yahawa Shai è il nome del suo figlio. No Gesù o chissà cosa, no Jehovah, no, niente di quei nomi falsi là, ok? Il suo nome è dato a solo la casa di Israele e pochi, non tutti, ok? Prima di chiudere vorrei lodare il Padre Yahawa nel nome di suo figlio Yahawa Shai e i miei doppi onori agli apostoli e anziani della Great Millstone che mi hanno insegnato questa verità. Alla prossima, Shalawam.